per? per filmare questo qua a destra? c'è filmato e c'è. ah. dimmi cosa c'è? eh? cosa c'è Enrico? cosa fai? cosa c'è? no no niente. ma è tutto bene? cosa vuoi? allora racconta un po'. allora siamo andati a fare un giro con gente che comunque è un passo abbastanza sostenuto primo passaggio un po' difficile. salita bella ripida con pietroni. vieni un attimo qua a spiegare cosa è successo. vieni qua. dai. dai. cosa è successo? beh spiega un po'. cioè praticamente mi si è fermato. Herman è tutta colpa. no ma vai vicino a Max almeno vi firmo vicini. ma se io l'ho passato Herman tranquillo sono salito. ok io mi sono messo dietro Herman non avevo abbrivio e sono scivolato. una scivolatina del cavolo. quello che mi fa nervoso. risultato? che mi mi sono appoggiato a sinistra. io mi sono buttato a sinistra. sai quando ti appoggi e cadi anche così no? ho buttato. no cazzo fai? eh va bene tanto è rotta. scusa vai un po' indietro con la moto. no 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 no. dai togli l'appoggio. no no per favore. dai togli l'appoggio. dai che è lì in mezzo al nulla. togli l'appoggio. praticamente mi si è. adesso dagli una spintarella. no. praticamente buttando la gamba. mamma mia ragazzi. vabbè dai. buttando la gamba. buttando la gamba giù. e dandomi la spinta. strappo. ma non avete idea. e poi cosa è successo? sono svenuto. ma quanto? ma qualche secondo penso. sì qualche secondo un cazzo. ah di più? è stato due minuti con gli occhi roveciati indietro. sono stato malissimo. sì. ma tu non hai idea come sono stato male. sai che volevo filmarlo? mi diceva no per favore. no per favore. no per favore. mi ha detto tre volte no per favore. no non è vero. questo non è vero. mi dicevi dove è la telecamera? ma io veramente mi ricordo malattena quello che è successo. cioè gli ho chiesto spogliami perché stavo male. appena gli ho detto spogliami non è che mi toglie questa. gli ho tirato fuori il pisello. la caccia qua mia. sto cretino. mettiamo sul pedaver qua. no no. eh vabbè. tira fuori le cinghie ragazzi dai. voi fate quanto? dai tira fuori la cinghie.